Si spengono le luci, si ferma la musica, si ferma tutto il mondo dello spettacolo. Tra i provvedimenti del DPCM 24 ottobre c'è anche la chiusura di teatri, cinema e centri culturali, una decisione che sta facendo discutere e che ha gettato nello sconforto gli operatori di un settore tra i più colpiti dall'emergenza economica provocata dal coronavirus. Dalle parole del maestro Francesco Monopoli, presidente dell'associazione culturale Giuseppe Curci di Barletta, emerge tutto il rammarico per una nuova stagione che rischia di andare in fumo. Noi ci stiamo anche preparando per la riapertura e l'avvio degli spettacoli della stagione al teatro comunale Curci che tutta la città e non solo la città, tutto il comprensorio sta aspettando sia dal punto di vista della musica che dal punto di vista del teatro e so che anche l'amministrazione comunale è fortemente impegnata a realizzare tutti i lavori per la riapertura del teatro. Questa notizia naturalmente ferma un pochettino tutto ma io penso è importante che non si rilassi, che si approfitti di questo tempo per rimettere proprio a nuovo e al meglio le strutture per poter poi ripartire. Qua il problema dello spettacolo deve essere chiaro, non si può chiudere e riaprire immediatamente. Preparare una stagione, una serie di eventi a necessità di un tempo di preparazione, di un tempo di programmazione per cui chiaramente questo stop avrà i suoi effetti per un tempo abbastanza prolungato. Ulteriore motivo di sconforto emerge dai dati relativi al contagio che non sembrano supportare la decisione di fermare attività che hanno fin qui operato nel massimo rispetto delle disposizioni governative. Noi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre abbiamo realizzato circa un centinaio di eventi qui, naturalmente adottando di precauzione, i registri di tutte le presenze, i cellulari, il tracciamento, le temperature e tutto il resto. Non ci risulta nessun caso di contagio, davvero zero casi assolutamente e questo è il dato per cui questo è il dato su cui possiamo tutti riflettere. La richiesta alle istituzioni è quella di un ristoro proporzionato alle attività di ciascun artista, un ristoro che serva ad incentivare l'arte, la cultura e la bellezza. Un errore che è stato fatto precedentemente secondo me è di dare dei contributi a fondo perduto senza verificare la reale entità del lavoro svolto. Parlo sia dei lavoratori dello spettacolo che dello spettacolo. Basta partire semplicemente dai dati del fatturato 2019 su questo parametrare gli interventi. E io mi piace dire questo, anziché ristoro, a me piacerebbe usare la parola incentivo. L'arte per essere viva, per essere presente ha bisogno di essere realizzata. Io non voglio essere un sussidiato, non voglio essere un ristorato, voglio essere una persona incentivata a creare, a produrre, a comunicare, a rendere l'arte bella per quello che è e per quello che di positivo poi produce per tutti.